Nel triste caso della morte della piccola Diana, lasciata sola dalla madre Alessia Pifferi per sei giorni, è stata confermata la morte nell'arco temporale dalle 48 alle 24 ore prima del rientro della madre. La donna aveva fatto rientro nella zona al quarto giorno, scegliendo però di non passare da casa a controllare la figlia. Come sappiamo, la piccola aveva assunto dei tranquillanti, motivo per il quale i vicini non avevano sentito né pianti o lamenti. Alessia Pifferi si trova in carcere da quattro mesi circa, con l'accusa di omicidio volontario aggravato, e dalla sua cella la donna scrive delle lettere. Oggi andremo a leggerne una. Preparatevi perché credo ci farà un po' arrabbiare. La donna nella sua lettera scrive. Mia figlia, mi manca da morire, e il dolore è molto forte e intenso. Ogni volta che chiudo gli occhi, spero che tutta questa situazione sia solo un brutto sogno, e invece mi sveglio in carcere e mia figlia non c'è più. A mia figlia facevo cucù, ridevamo come i due matte, e poi lei si addormentava. Penso di sapere solo io il dolore, la sofferenza che ho nel cuore per questa situazione, e il trauma che sto vivendo. Vorrei tanto tornare indietro e, se si potesse, soltanto per riavere mia figlia con me. Da quando non c'è più, mi sento vuota e spenta, sia psicologicamente che nel cuore. Queste ragazzi sono le parole scritte in una delle sue lettere da Alessia Pifferi dal carcere. Come sempre vi chiedo di scrivermi qua sotto nei commenti cosa ne pensate a riguardo. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Ci vediamo con il prossimo video.